Nell'ambito di questo progetto, che è un progetto integrato di filiera che è stato finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito dei progetti di sviluppo rurale e in particolare mi sono occupata del coordinamento della fase di progettazione e del supporto al capofila per sviluppare tutte le attività progettuali. È un progetto molto complesso perché viene da un bando multimisura, questo vuol dire che diverse misure hanno finanziato operatori di caratteristiche e settori diversi, dalla fase agricola alla fase di trasformazione industriale sino alla fase commerciale e hanno coinvolto anche le organizzazioni di rappresentanza agricola, nello specifico col diretti. Quindi è stato particolarmente complesso il coordinamento, portarlo in fondo, ma il progetto ha avuto un grandissimo successo sia nella sua componente di filiera che ha disegnato una nuova linea di prodotti cosmetici basati proprio sulla trasformazione della lavanda coltivata dagli agricoltori con metodi biologici e ha portato a termine anche uno sviluppo turistico che è andato veramente oltre le aspettative. Questa destinazione, che era assolutamente sconosciuta, è diventata destinazione turistica rurale premiata 2020 in pieno Covid.